Io sono Giacomo. Ciao, tu chi sei? Non ero. Assalamualaikum, io sono Maisha. De dove vieni Maisha? Io vengo da Bangladesh. Ciao, io sono Paola e vengo dall'Italia. Ciao, io mi chiamo Bianca. Ciao, io mi chiamo Yakutano e io vengo da Cina. Da Cina? Ma sai salutare il cinese? No, ok. Va bene, non dirvi va. Assalamualaikum. Mi chiamo Afra. Afra, dove sei? Dove vieni tu? Da Bangladesh. Da Bangladesh? Ciao, io mi chiamo Leonardo e vengo dall'Italia. Ok. Assalamualaikum, io mi chiamo Zahra e vengo dal Bangladesh. Ciao, io mi chiamo Andrea e vengo dall'Honduras. Ah, l'Honduras. E tu dici, hola, mi chiamo, da dove vieni tu? Hola, io mi chiamo Andrea. Ok. Ok. Hello, my name is Giovanna. Bye, bye. Bye, bye. Ma tu parli in inglese. Perché parli in inglese? Io mi chiamo Andrea e vengo dall'Italia. Io mi chiamo Mattias e vengo dall'Italia. E tu sei? Io sono Andrea e vengo dal Marocco. Ma come ti chiami? Eia. Eia. Ciao, io mi chiamo Gianna e vengo da Bangladesh. Ah, stupendo. E tu sei? Mi chiami? Vabbè, dimmi tu. Tu come ti chiami? Ciao, io sono Ye. Vieni da Cina. Ok. Mi voglio dire qualcosa in cinese, Ye. Ciao, io mi chiamo Kim e vengo dall'Italia. Ciao, io mi chiamo Kim e vengo dall'Italia. E' stupendo. Ciao, io sono Daria e vengo da Roma. Ciao, io sono Karim. Ciao, io sono la maestra Lara e sono Umbra. Eh, Luciana. Luciana. Ok, Luciana, tu dove vieni, Luciana? Eh, dall'Italia. Tu sei romana. No. No. Sì, sì. Noi siamo la terza C e questa è la nostra aula. Di là ci sta una lavagna e ci abbiamo messo i nostri cartelloni per decorare la classe. Di qua ci abbiamo messo le mandale per farlo più colorato. Ok. E di qua ci sono tutti i nostri. Ma mi fai vedere le mandale concretamente che sono cose? Eh, tu sei Ye. Allora, vediamo, vediamo. Aspetta, aspetta. Abbiamo messo in due parti così una mandala e l'altra mandala da tutta la classe riempisce la gioia. Ah, questo è per riempire le gioia questa classe. Ok. Ognuno ha il suo. Ok. Abbiamo messo una mappa là. La mappa? Fammi vedere la mappa. L'abbiamo messa perché così capiamo da dove veniamo. Eh, sì, capiamo da qui. Cioè, ci sta tipo tutto il mondo. Questa è la biblioteca della classe. È un posto dove si lasciano tutti i tipi dei libri e pure questa è la biblioteca. Ah, pure questa è la vostra biblioteca. È un po' piccola questa biblioteca. È una cosa che quando leggiamo a leggio, mettiamo il lettore, la lettrice, la data, il titolo della lettura e questo è. Quando vogliamo prendere un libro in prestito, tipo io prendo un libro in prestito, segno qua quanto ho preso, quanto lo voglio riportare, se ho finito o non ho finito. Questi sono i problemi che abbiamo fatto con la nostra maestra. Problemi in matematica? Sì. Noi l'abbiamo fatto sul quaderno e la maestra ha fatto sulle carte. Così che ce li ricordiamo. Aspetta, aspetta. E qua sistemiamo i libri, i quaderni. Ok, ok. Ciao, la terza C. Ok, la terza C. Perfetto.